siamo qua con l'evento dominio adesso perché dobbiamo continuare la nostra striscia di vittoria anche cambiando evento ovviamente non solo su un evento allora già cominciamo con questi qua che ci bombardano o cazzo però se sto solo io con la dentro non facciamo mai niente non ci vanno guarda quel che è stata dietro bu cazzo una testa di minchia hanno distrutto però noi almeno ne stiamo là dentro gli altri manco se ci avvicinano è impossibile le cose del genere è impossibile però anche andando male stiamo vincendo dai vaffanculo muori bastardo muori vaffanculo le bombe abbiamo vinto abbiamo vinto questo è l'importante non mi interessa più niente quello che vuole succedere succede allora questi personaggi già siamo sono fortissimi i nostri fanno cagare già questa partita è segnata ve lo dico io recuperiamo la vita se ci riusciamo se ci riusciamo perché questo qua già cominciato a spararci bombe polpette lì che cazzo ne so che cosa sono certo mi ha messo i funghi qua davanti questo qua che cazzo sono sti cosi gelataio della minchia non riusciamo ad uccidere perché non ho capito il gelatino è morto ok è morto anche questo ora recuperiamo di per favore perché se venite tutte e tre qua dentro forse se ne parlo non ci posso credere oh mio dio attenzione attenzione vai dai dai manca pochissimo manca solo il 6 per cento no questa pista di merda abbiamo vinto nonostante tutto sono incredibile io questa volta me ne vado di qua così se viene qualche coglione di merda tipo edgar lo potevo uccidere però non ci sono riuscito ma dove è spuntato questo qua l'importante è che l'ho ucciso edgar attenzione edgar porca puttana mi ha ucciso l'orso voglione di merda per un colpo che mi ha preso dai che questa partita l'abbiamo vinta pure e infatti è così ce l'abbiamo fatta c'è già tanto movimento qui al centro sta succedendo il finimondo raga il finimondo pure il chitarrista si ci mette chitarrista vai a fanculo ma quelle valigie perché non te le fitti in culo invece di lanciarle oh my god che cazzo è qua va a fanculo si è pure messo la copertura io la lancio l'orso al centro vediamo che cosa succede magari muore anche a fanculo pure a te ma da dove escono tutti quanti da dove escono incredibile andiamo a recuperare perché ci stanno recuperando in un modo assurdo non ho manco fatto in tempo a lanciare il cazzo di orso lo lancio ora vediamo che cosa succede se lo uccide almeno l'ho fatto allontanare non facciamoli andare perché sono al 95% no no guarda sto coglione di merda aspetta che mi fermo un attimo eh aspetta che mi fermo un secondo eh cambiamo evento e torniamo a footbrawl raga footbrawl io ci provo vaffanculo dalla distanza 1 a 0 dio porco che notizia ma come l'ha messa dentro dio cane maria dio boy cazzo ti potevo scassare la palla scusami tanto e abbiamo vinto la partita 2 a 0 oh mio dio qua cominciamo in modo molto accattivante attenzione che coglioni di merda questo qua che ancora ancora non si ferma quando agliondiamo la palla questo lo uccidiamo anche tra l'altro anche se siamo morti non mi interessa niente l'importante è uccidere è un cazzo di barile qui porca puttana nooo c'è distrutta la copertura quel figlio di troia dai che ce la fai dai tira 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 1 a 0 bravissimo la succedente è il finimonto nooo proprio appena avevo lanciato il cazzo dell'orso non è il cazzo dell'orso volevo dire l'orso e costa lasciamo stare raga e ti pareva che quello la non era qua dentro bastardo prova ad incannarli vediamo forse ci riesco forse ci riesco non ho parato ancora a dire sì 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 in mezzo a tutti sì ritorniamo in sopravvivenza singolo perché con questo personaggio non mi fido io a fare altri eventi cazzo cazzo cominciamo in modo bruttissimo con questo personaggio forse non è meglio manco fare questo evento non l'ho preso sì l'ho preso però cazzo c'è mancato pochissimo l'ho ucciso ho ucciso anche stecca grandissimo mazzo nooo me lo dovevo immaginare porca puttana edgar ci ha fottuto tutte le casse perfetto proprio pensate perché c'è la scelli qua dentro cazzo ma da dove è uscito ciao 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 ciao